Da mani in pasta, a mani in panuzza e tost, vi aspettiamo tutti, abbiamo creato questo nuovo format e che dirvi, vi aspettiamo e vi facciamo assaggiare tutte queste novità. E diciamo un po', i panuzzi sono... Noi vi consigliamo nel nostro menù 15 panuzzi, dopodiché potete sempre comporre e farle come volete. Sì, sì, potete anche sceglierli voi. Da parte nostra ve ne consigliamo 15, come i tost. È una scelta voluta? Sì, 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 è una scelta voluta. Grazie.